Luca Rutigliano un artista vero, giovane, simpaticissimo anzi io mi auguro che lo conoscerete al più presto perché con lui c'è un progetto però non vi anticipo nulla lui ha avuto così la genialità di dare visibilità ma dico visibilità a questa bella città che è Bari attraverso un tormentone che è appunto quello di Eppi raccontaci niente, ci è venuta l'idea di far vedere Bari e i baresi in tutto il mondo perché secondo me Bari è una città da vedere ed è meravigliosa il progetto speriamo che venga condiviso da almeno 500.000 persone ad oggi siamo arrivati in soli tre giorni a 300.000 utenti il che vuol dire che se dovessimo arrivare mai a quel numero là si potrebbe ispirare anche al milione e non c'è nessuna città oltre Parigi in Europa che ha fatto bene così però tutti sei illuminato perché hai fatto un viaggio eri un giorno a passeggio dove? ero un giorno a passeggio a Dublino, ho visto il video che comunque veniva girato lì e ci è venuta in mente questa idea naturalmente poi ho coinvolto un regista che si chiama Toni Castrovilli un emergente di vent'anni che naturalmente ha messo il suo cuore alla passione per far vedere Bari a tutti i suoi amici e tutti i baresi è la cosa più divertente che si è riuscito a coinvolgere oltre a tante persone belle e simpatiche anche degli artisti si è tutto nato per caso nel senso che sia per le persone che giravano per strada che venivano coinvolte facilmente è capitato che eravamo in uno studio legale lì c'era Gianni Ciardo, l'ho preso a braccetto e iniziato a ballare lo stesso è andato così per Mingo era vicino al lungomare un signore lo seguiva ha detto a questo punto mettiamo la musica e vediamo che succede Mingo in due secondi è iniziato a ballare saltava, girava il video vicino al mare ed era meraviglioso quindi chiediamo ai nostri amici di mettere quantomeno il mi piace e di visualizzare questo video su Youtube, dove? è molto facile, andate su Youtube, scrivete Happy Bari o su Google semplicemente Bari uscirà il video, guardatelo e condividetelo l'obiettivo è oltre a un milione far vedere Bari più gente possibile in modo da attrarre turismo qui e far comunque fiorire un turismo migliore Eppi serve anche per esorcizzare la crisi però uno non è che si deve nascondere dietro un dito comunque la crisi c'è quindi tutta questa felicità può darsi ce l'hanno all'estero ma in Italia un po' meno e per quello che ci riguarda ancora di meno quindi come si dice triste in inglese? Sad Se lo portarono al Campo Santo un fio di birra senza rimpianto se lo portarono seduto in trono quattro becchini al passo lento del perdono che si deve nascondere la